Presentata in conferenza stampa questa mattina l'operazione Drags 2, un vasto disfigamento di carabinieri ha sostanzialmente preso a pugni il traffico di sostanze stupefacenti, sono 21 gli arresti nell'ambito dell'operazione. Come un terremoto l'esplosione dei mancati pagamenti degli stipendi al comune di Modica e la CGL a denunciare quanto sta accadendo, riflettori puntati sui dipendenti della ditta Puccia al centro del Consiglio Comunale di ieri sera. La crisi agricola al centro di un ampio dibattito, ieri sera a Scoglitti promosso dal sindaco Moscato a partecipare tra gli altri la sindaca Iurato fuori i forconi perché l'incontro era di tipo tecnico. A Tre Castagni la Menarini ha cantato ieri sera affascinando il pubblico presente, un evento che aveva uno scopo solidale, i fondi andranno alle vittime del drammatico evento sismico di agosto in centro Italia. Buonasera, telespettatori di MTG e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. Dunque l'apertura anche questa sera è dedicata alla vasta operazione antidroga portata a termine dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa, ha aggredito il mercato dello spaccio in provincia, un duro colpo dunque è stato inferto dai militari dell'arma che questa mattina hanno eseguito 21 ordinanze di custodia cautelare. Il sodalizio composto da pregiudicati italiani e albanesi operava prevalentemente nella zona del Lipparino. I militari dell'arma hanno inoltre sequestrato un cospicuo quantitativo di cocaina e 35 mila euro in contanti. Per noi c'era Carmela Minardo. Una banda italo-albanese dedita allo spaccio di droga in tutta la provincia di Ragusa è stata sgominata dai carabinieri che hanno arrestato 21 persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare di cui 16 in carcere e 5 ai domiciliari emesse dal GIP del Tribunale Claudio Maggioni su richiesta del PM Valentina Botti. L'operazione è scaturita da una precedente indagine sfociata un anno fa nell'arresto di 14 presunti spacciatori che operavano sul litorale in prossimità di discoteche e luoghi di ritrovo per giovani. Muovendo da questi riscontri gli investigatori hanno scoperto una fitta rete di spacciatori con base a Santa Croce e Camerina, Vittoria, Scoglitti e Comiso. Gli arrestati sono 12 albanesi e 9 italiani, in gran parte pregiudicati. Tra di loro operai braccianti e diversi imprenditori agricoli. Del gruppo fa parte anche una donna. Le misure cautelari sono il risultato di un anno di pedinamenti e intercettazioni. La svolta a giugno scorso, quando 8 spacciatori sono stati colti in flagrante ed è stato loro sequestrato un chilogrammo di sostanze stupefacenti tra cocaina ed hashish. Per gli inquirenti il capo dell'organizzazione è Mirijan Adigini, chiamato anche Arijan Oemiliano, e noto alla vasta platea dei giovani che da lui si rifornivano. Suo presunto braccio destro l'amico italiano Francesco Oro, già individuato nella precedente operazione dello scorso anno. I due ricevevano i piccoli spacciatori della rete e gli assuntori consumatori acquirenti in una villetta sita punta braccetto di Mora dell'Agedini e nascondevano lo stupefacente in barattoli di vetro occultati nei cespuglie del vialetto adiacente. A volte lo spaccio avveniva in altri luoghi come la spiaggia, ma anche in questo caso i carabinieri, in costume come altri bagnanti, sono riusciti la scorsa estate a cogliere sul fatto gli spacciatori. Alcuni degli indagati erano in possesso di armi che occultavano tra le serre a ridosso della riserva naturale di Randello. Nel corso delle perquisizioni, sequestrati 26 mila euro e vario materiale per il confezionamento della droga. E al termine della conferenza stampa, Carmela Minardo ha realizzato queste interviste. Vediamo. Questo gruppo sta proprio nel fatto di che sono veramente riusciti a penetrare la società a tutti i livelli e da parte loro a un livello intermedio perché loro oltre a spacciare si occupavano direttamente anche di rifornimenti di grossi quantitativi, principalmente poi provenienti dall'Albania, e tagliati poi appunto in maniera anche particolare che veramente con effetti che potevano essere davvero nocivi. Quindi c'è in questo senso veramente il fatto c'è di aver arrestato tutto questo gruppo ha dato e darà penso veramente un bel segno nella zona. L'approvvisionamento principalmente sia dall'Albania, a mezzo di appunto alcuni di questi soggetti che tornavano in Albania in aereo, poi da lì normalmente caricavano le macchine sul traghetto e quindi poi proseguivano in macchina fino a Ragusa, a volte anche facendo dei giri intermedi nella zona di Roma e di Tivoli dove effettuavano poi ulteriori, lasciavano una parte di cocaina e ne prendevano altre, infatti abbiamo trovato diverse tipologie di cocaina con livelli di purezza diversi ma sempre superiori comunque al 94% e quindi i principali canali di rifornimento erano quelli. Poi arrivavano qui, qualcosina veniva distribuito a Catania presso altri contatti e poi successivamente arrivavano a Vittà, Santa Croce e Camerina in realtà e poi c'è da lì in tutta la provincia. Purtroppo il fenomeno droga è un fenomeno che cresce e addirittura sappiamo benissimo che l'età dei giovani che si avvicinano alla droga si abbassa sempre di più, ora siamo intorno ai 14 anni, quindi è sempre alta l'attenzione dell'arma su questo fenomeno e in particolare del Comando Provinciale di Ragusa. Oggi riteniamo di aver dato un duro colpo a questi spacciatori arrestandone ben 21 che appunto avevano messo su una vera e propria organizzazione composta da soggetti pregiudicati con precedenti specifici sia italiani che albanesi che erano dediti a questo tipo di reato. L'indagine è nata da Camerina Drax dell'anno scorso, la prima attività di indagine, quindi è da lì che abbiamo preso spunto ed è continuata quindi con un nuovo stralcio. Abbiamo individuato quello che è stato poi definito il capo diciamo di questa rete di spacciatori da cui tutti si rifornivano e che a loro volta poi distribuivano lo stupefacente in zona sia per i locali pubblici sia attraverso le loro conoscenze. Il giro d'affari? Il giro d'affari è abbastanza cospicuo tanto che oggi in occasione degli arresti abbiamo anche rinvenuto 26 mila euro in contanti che sicuramente sono provento dell'attività di spaccio. E la polizia di Stato ha arrestato a Ragusa uno spacciatore gambiano richiedendo asilo continua dunque l'attività della squadra mobile contro lo spaccio dopo aver debellato il fenomeno di piazza in piazza San Giovanni. È stato un cittadino a segnalare alla polizia la presenza in via Natalelli di un giovane di colore che cedeva la droga. Giunti sul posto gli agenti hanno notato un giovane ragusano quale assuntore di droghe che si avvicinava allo spacciatore prendeva un piccolo involucro e consegnava una banconota da 10 euro. Lo spacciatore è dunque stato fermato, trovato con 5 dosi di hashish già suddivise e confezionate proprio per la vendita. Il giovane è stato condotto in carcere a disposizione della procura di Ragusa. Sarà trasferita agli arresti domiciliari in un'abitazione di Catania la famiglia Pepi, Antonio, Alessandro, Marco e il padre Gaetano accusati di avere ucciso l'agricoltore vittoriese Giuseppe Dezio il 2 febbraio scorso a Vittoria. Il GIP ha autorizzato la misura cautelare meno afflittiva ma con il braccialetto elettronico. Antonio, Alessandro, Marco e Gaetano da 8 mesi in carcere per il delitto dell'agricoltore di 64 anni Giuseppe Dezio avvenuto il 2 febbraio scorso a Vittoria sono stati autorizzati gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Il GIP del Tribunale di Ragusa Giovanni Giabiccolo ha accolto la richiesta dell'avvocato della famiglia Giuseppe Lipera che ha riempito la scrivania del giudice di continue istanze. Il legale ha chiesto al GIP che i quattro vengano ristretti domiciliari in un'abitazione a 100 km distante da Vittoria luogo dove si è consumato il delitto. Quasi certamente i pepi prenderanno in affitto una casa a Catania considerato che il giudice ha rilevato che nel caso di specie vi è l'opposto pericolo attuale e concreto di una sorta di faida familiare di ritorsione a ulteriori episodi di violenza reciproca considerati i desistimi rapporti tra le due famiglie. Il GIP Giampiccolo accogliendo l'istanza ha però chiesto a legale l'individuazione di un'idone abitazione l'applicazione della procedura di controllo del braccialetto elettronico i controlli sull'osservanza della misura saranno effettuati dai carabinieri della Compagnia di Vittoria con facoltà di subdelega. Una piccola battaglia vinta dalla famiglia Pepi le mogli avevano organizzato un sit in pacifico davanti al Tribunale di Ragusa per chiedere la liberazione dei loro congiunti. A casa da attenderle ci sono anche i figli minori che hanno chiesto di riavere i loro papà. Le indagini sul delitto sono ancora in corso per l'omicidio ha confessato Gaetano Pepi il padre aggiungendo di aver colpito con un coltello Giuseppe Dezio per legittima difesa. La vittima infatti sempre con un coltello ha ferito Alessandro Pepi. Sul luogo del delitto si trovavano anche gli altri due figli di Gaetano Antonio che sarebbe rimasto lontano perché si impressiona la vista del sangue e Marco che invece sarebbe arrivato poco dopo il decesso di Dezio il cui coltello utilizzato secondo la testimonianza di Antonio Pepi è stato fatto sparire dal figlio Giovanni unico testimone oculare. Ho visto infatti il figlio di Dezio ha raccontato nel corso dell'interrogatorio Antonio che mentre c'era l'ambulanza ha girato il cadavere e ha preso un coltello. Sono un egiziano e un sudanese i presunti scafisti responsabili dello sbarco di ieri a Pozzallo di 650 migranti di cui 348 uomini 136 donne e 166 minori di questi 26 non accompagnati i due sono stati fermati dalla squadra mobile di Ragusa dopo ore di indagini grazie anche ad una foto del barcone analizzata dagli investigatori. La Polizia di Stato ha già provveduto a trasferire oltre 300 dei migranti sbarcati ieri nelle sede individuate dalla Prefettura di Ragusa ed è ancora a lavoro. Nel 2016 all'hot spot di Pozzallo hanno già fatto ingresso e 16.540 migranti in occasione di 44 sbarchi. La Guardia di Finanza ha fermato al porto di Pozzallo un veicolo diretto a Malta con a bordo ben occultati oltre 1.000 cardelline appartenenti alla specie protetta dei Fringi Lidil. Responsabile è un calabrese di 44 anni che è stato denunciato per i reati di maltrattamento uccisione, detenzione di specie protette e ricettazione. I volatili sono stati rinvenuti in pessime condizioni igieniche all'interno di un doppio fondo sotto il cassone del mezzo rinchiusi in anguste e gappie di plastica che normalmente si utilizzano per le ortaggi e la frutta. Il conducente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione attestante la specie e la provenienza e il legittimo possesso. Gli uccellini sono stati liberati all'interno di un'area faunistica protetta nel territorio di Scicli dove gli esemplari potranno nuovamente ritrovare il loro habitat naturale. E passiamo alla politica. ritrovato è la candidata sindaca di un'ampia coalizione che vede anche il partito democratico a Scicli. Occhipinti si è tirato fuori dal cerchio ed aumenta di conseguenza il caos. Si parla di sindesi ma di fatto pare si stia profilando una separazione ancora più grave tra i due circoli del PD a Scicli. L'ex senatore Mario Occhipinti si è ritirato dalla candidatura del PD per le prossime amministrative e l'accordo Padua-Minardo-Ragusa è andato in porto. Occhipinti era stato l'unico a presentare la candidatura alle primarie e di fatto non avendo rivali è automaticamente diventato il candidato sindaco. Ieri però lo stesso partito democratico ha ufficializzato la propria adesione alla coalizione che sosterrà la candidatura di Rita Torovato. Che in effetti le amministrative a Scicli fossero ricoperte da una nube di caos è oramai noto ma adesso il partito democratico con questi passaggi repentini a poche ore di distanza l'uno dall'altro di fatto non ha alleggerito il carico. Il PD dice di non aver silurato Occhipinti in effetti quest'ultimo si è ritirato secondo quanto si apprende dai vertici del partito democratico di propria spontanea volontà. Alla base di questa scelta potrebbe come appare ovvio esserci l'assenza di condizioni per andare avanti vedendosi arrivare il sostegno a Rita Trovato da parte del suo stesso partito. Capite bene che ci può stare che si rompino gli schemi. Al segretario provinciale Denaro abbiamo chiesto se a questo punto si possa profilare un'ipotetica carica assessoriale per l'ex senatore della Repubblica Italiana. A questa domanda Denaro non risponde e preferisce non rilasciare dichiarazioni a riguardo. Dunque ad oggi Rita Trovato sarà la candidata della propria lista civica Laboratorio Scicli e al suo sostegno avrà Udc PD Scicli Popolare e Città in Movimento. Il nome della Trovato è stato sin dall'ufficializzazione delle amministrative a Scicli legato alla senatrice Padua e al deputato regionale Orazio Ragusa. Ancora resta incerta la presa di posizione del secondo circolo del PD che di fatto ha visto sfumare nel giro di poco le primarie il candidato Mario Chipinti che di fatto avrebbe rappresentato esclusivamente il Partito Democratico e in parte anche il progetto di sintesi che si era tanto decantato. Accesa seduta del Consiglio Comunale ieri sera a Modica botte risposta tra il sindaco Abate e la consigliera Castello sulla vertenza degli operatori ecologici il sindaco sostiene di aver mantenuto e patti con la prefettura mentre la consigliera Castello sostiene che gli accordi sono stati disattesi. Il Consiglio Comunale di ieri sera a Modica è stato caratterizzato da comunicazioni e question time inevitabili riferimenti alla scorsa settimana quando la maggioranza ha disertato le sedute ma a tenere banco come argomento principale è stata l'avvertenza degli operatori ecologici di Modica è stata la capogruppo del Partito Democratico Ivana Castello a chiedere al sindaco di relazionare sulla pesante situazione che si sta registrando per i dipendenti della ditta Puccia Ho chiesto al sindaco come mai a fronte di un accordo siglato proprio in prefettura come mai ancora non erano stati pagati gli stipendi quindi come mai non era stato rispettato ovviamente l'accordo siglato dal prefetto Il sindaco le ha risposto dichiarandosi contento di questa interrogazione perché solo oggi qualcuno secondo il punto di vista del primo cittadino di Modica si accorge del personale rispetto ad un mandato di 404 mila euro la ditta Puccia ha pagato solo una parte bisogna capire se dobbiamo fare gli interessi dell'impresa o dei lavoratori ha sottolineato il primo cittadino che ancora ha rimarcato come dopo l'accordo in prefettura tutti i mandati soddisfino la ditta Puccia per pagare gli emolumenti il ritardo è stato causato ha dichiarato Abbate da somme bloccate dalla serita alle poste italiane a rimarcare il punto di vista del sindaco di Modica Ignazio Abbate il consigliere di maggioranza Luigi Gerratana Devo dire che il sindaco è stato parecchio esaustivo nel senso che i mandati sono stati effettuati il giorno 18 e quindi è necessario che naturalmente passano dei giorni affinché vengano accreditati le somme dovute effettivamente non si vedono altri tipi di mandati in quanto sono stati prioritari proprio quelli dell'accordo che è stato stipulato in prefettura e mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara il consigliere Castello fa il suo dovere di opposizione lo fa bene e quindi noi comunque siamo sereni in quanto come maggioranza ci atteniamo insomma a ciò che la città ci chiede la risposta del sindaco però non ha lasciato soddisfatta la Castello in realtà era previsto un mandato di 400 mila euro per il 19 ma nella parte in cui l'accordo impegna la ditta si parla di versamento del comune entro il 19 la parola versamento proprio fa pensare a che cosa che i mandati avrebbero dovuto avere la copertura finanziaria è stata informata la prefettura di questo accordo che in effetti secondo il punto di vista dell'opposizione di modi che è stato disatteso sì io ho parlato proprio ieri sera a consiglio quando si è concluso il consiglio ho parlato col titolare della ditta che mi ha garantito che è stata fatta una segnalazione al prefetto appunto per comunicare del mancato rispetto degli accordi il sindaco invece che piuttosto che ammettere proprio di non avere la disponibilità e le somme per poter pagare i dipendenti ha parlato ha continuato a parlare di valuta e di giorni di valuta così non è in realtà perché il sindaco lo stesso giorno in cui si è recato in prefettura per firmare l'accordo sapeva già che non avrebbe potuto rispettare l'accordo perché la somma a disposizione era sempre la stessa e con quella somma avrebbe potuto pagare gli stipendi dei dipendenti comunali i contributi e i dipendenti della ditta Puccia e la camera del lavoro di Modica interviene con una dura nota contro l'amministrazione comunale retta dal sindaco Abate la questione del pagamento degli stipendi arretrati ai dipendenti comunali alle cooperative e agli operatori ecologici al centro della nota stampa dopo quasi tre anni di camuffamento da parte dell'amministrazione comunale solo adesso Modica emerge con grande drammaticità la questione dei debiti che il comune ha contratto con tutti i lavoratori a sostenerlo il segretario della camera del lavoro di Modica Salvatore Terranova basta ricordare i dipendenti delle cooperative sociali in modo particolare la Turia Para che deve ancora percepire dieci mensilità senza dimenticare altre cooperative cui non vengono liquidati per i servizi svolti e poi c'è la SPM totalmente partecipata dall'ente comune i cui dipendenti devono percepire quattro mesi di stipendi già maturati e il quinto in maturazione tra qualche giorno una situazione finanziaria quella di Palazzo San Domenico che va sempre più aggravandosi giorno dopo giorno così come aveva dichiarato anche in un'interrogazione il consigliere comunale di SEL Vito D'Antona a questi debiti si dovrebbe aggiungere tutta la esposizione debitoria complessiva del comune che porta ad un coma irreversibile ha detto Terranova con conseguenze nefaste sui lavoratori sulla città e sui cittadini Terranova ha parlato anche dell'accordo sottoscritto in prefettura per i pagamenti della ditta Puccia il segretario della Camera del Lavoro insomma chiede al sindaco che venga fatto un piano di pagamento con le organizzazioni rappresentative per tutta la categoria dei lavoratori che preveda la liquidazione entro la fine della settimana di tre mesi per i lavoratori della SPM cinque mensilità a quelli delle cooperative se questo piano non dovesse essere fatto continua Terranova saranno promesse manifestazioni sit in a tempo continuato fino a che non si avranno i risultati per cui si manifesta di fronte alla drammaticità e alla negatività dei dati relativi alle esposizioni debitoria che è andata aumentando continua il segretario in questi tre anni e non diminuita ci si aspetterebbe un comportamento imperniato al senso della responsabilità seria da parte di chi ha ricevuto dai cittadini l'onere del governo della città il tempo del bel gioco è finito conclude il segretario Salvatore Terranova siamo nel tempo delle risposte serie quelle che ci si aspetta da tre anni e che ancora non si profilano all'orizzonte prendere atto dello stato di crisi del settore agricolo in provincia di Ragusa e studiare le possibili soluzioni e quanto sarà discusso nei prossimi giorni a Palermo dove verrà convocato un tavolo di crisi per affrontare in particolare il problema della virosi questo l'esito dell'incontro che si è svolto ieri sera a Vittoria promosso dal sindaco Giovanni Moscato stavolta c'erano quasi tutti a dimostrazione che il problema della virosi in provincia di Ragusa è particolarmente avvertito e sta mettendo in ginocchio le imprese già duramente colpite dalla grave crisi e dagli eventi calamitosi parlamentari rappresentanti del settore fitosanitario ed il rispettorato agrario a confronto ieri sera a Palazzo Iacono convocati dal sindaco di Vittoria Giovanni Moscato per studiare delle soluzioni i deputati regionali tutti presenti tranne Orazio Ragusa che ha dato comunque la propria disponibilità hanno deciso di trasferire il problema ad un tavolo di crisi che si terrà nei prossimi giorni all'assessorato regionale all'agricoltura presente anche il primo cittadino di Santa Croce Camerina Franca Iurato Noi siamo parte l'ESA come territorio come amministrazione come rappresentante dei cittadini e dei nostri produttori allora io abbiamo lanciato il nostro grido allarme alla deputazione Iblea perché è l'amministrazione regionale che deve dare risposta e proprio per questo motivo io questa sera ho invitato la deputazione Iblea ho invitato l'ispettorato agrario ho invitato il centro fitosanitario e l'ordine degli agronomi proprio per ricercare delle soluzioni tecniche da poter dare alla regione Anche i rappresentanti delle università e del servizio fitosanitario saranno coinvolti Il problema è di una virosi un problema che difficilmente si può risolvere se non in futuro con della prevenzione anche poi quando sapremmo di che cosa qual è chi è l'organismo che è il virus che è agente di questa virosi potremmo saperne anche di più come eventualmente difenderci ma al momento non siamo in grado e noi abbiamo la possibilità di dare indicazioni se non l'indicazione di routine relativamente alle virosi Altresì nel corso del vertice è stato toccato il tema importantissimo delle coperture assicurative e del piano assicurativo agricolo che deve coprire anche il rischio dell'efitopatia Il problema per la risoluzione come intervenire per danni eccetera non è che ci sia grande possibilità perché la legislazione regionale prevede aiuto nel caso delle calamità naturali quindi avversità atmosferiche per quanto riguarda la questione delle fitopatie e quindi della virosi c'è una misura ma adesso ancora non è attivata Ad attendere i parlamentari anche un nutrito gruppo dei Forcone a cui è stato impedito l'accesso perché così è stato detto si trattava di un confronto rigorosamente tecnico Branchi di cani randaggi nella zona di San Nullo a Catania stanno mettendo paura alla popolazione alla luce anche di alcune aggressioni avvenute nei giorni scorsi per questo motivo il consigliere comunale Sebastiano Anastasi chiede l'intervento dell'amministrazione soprattutto che si pensi ad una politica seria per affrontare il problema sentiamo Sara Donzuso il problema del randagismo nel quartiere di San Nullo sta assumendo i contorni dell'emergenza ieri un numeroso branco ha aggredito un anziano tra via Sebastiano Catania e via degli Ulivi e purtroppo questo non è l'unico caso da registrare nelle ultime settimane anche perché proprio in questa zona insistono diverse scuole e diventa dunque necessario intervenire ma come denuncia Sebastiano Anastasi vicepresidente la Commissione Consiliare Servizi Sociali ciò che manca alla Comune è un'adeguata politica proprio sul randaggismo non c'è assolutamente una politica ci sono delle fredde regole per cui il burocratio di turno si attiene a quello che fa il Comune chiama l'associazione Zofila che si rega in zona se il cane lo trova cerca di fare degli interventi se non lo trova il problema non si pone se lo trova calmo il problema non si pone di fatto restano le aggressioni questi cani dobbiamo considerare ormai hanno fatto diverse cucciolate secondo i loro ritmi biovidali sono 4-5 generazioni che vivono là loro avvertono mai questo territorio come il loro gli ospiti sono i cittadini non è più possibile andare avanti a così perché le aggressioni che vengono registrate sono a carico di motociclisti biciclettisti anziani e bambini i soggetti più a rischio tra l'altro lei ha accettato i bambini proprio nelle zone stiamo parlando via Sebastiano Catania via Dei Ulivi via Le Tireno esistono diverse scuole esistono diverse scuole esiste la struttura sportiva del Cus Gadani esiste l'unico ipermercato della zona è una situazione davvero esplosiva e adesso parliamo della Kermes Musa d'Argento che si è tenuta lo scorso fine settimana a Scoglitti moda cinema televisione teatro scultura pittura queste le arti che si sono incontrate al concorso Musa d'Argento che ha avuto il suo clou nella finale nazionale che si è tenuta nei giorni 21 22 e 23 ottobre in quelli di Scoglitti presso l'Athena Resort frutto di un lungo lavoro durato circa un anno in cui la siciliana Lucia Paro ha selezionato giovani talenti a cui dare l'opportunità di una visibilità concreta veniamo ai premiati per la categoria Canto è stata premiata Marta Barrano che ha vinto un contratto discografico di un anno e la candidatura per i festival di Sanremo 2018 sezione giovani categoria Cinema miglior attore Luca Soares ha ritirato il premio Andrea Traina premiato da Pierfrancesco Campanella produttore cinematografico premio migliore attrice Elisabetta Pellini miglior corto anatomia di un amore con la regia di Manuela Tempesta miglior film lungometraggio dolce di latte di Gianni Leacche premio consegnato da Barbara Enrichi a Pietro Innocenti produttore miglior documentario il toro di Wall Street di Arturo Di Modica ha ritirato il premio Andrea Traina consegnato dall'attrice Lucia Sardo premi speciali miglior attrice Marina Pennafina a Tony Pasquale speaker radiofonico di NCI Radio New York sezione danza e ballo junior Giada De Renigi senior Mirko Primitivo hanno consegnato i premi Chiara Spano Lucia Simoneschi e Pietro Gorgone per la recitazione junior Andrea Manuel Pagella senior Francesca Genesi ha consegnato il premio la produttrice cinematografica Graziella Terrei premio speciale alla memoria Buzz Spencer consegnato al figlio Giuseppe Pedersoli premiato da Lucia Paro direttrice artistica di Musa d'Argento da Marco Tullio Barboni e Franco Michelizzi il premio alla carriera è andato alla giornalista Elisabeth Misland e al produttore Pietro Innocenti per l'arte e la poesia ad Antonella Loconte per la scultura a Domenico Boscia per la sezione pittura è stata premiata Nicoletta Vitali per la fotografia Sara Bruni per la categoria moda junior Giuseppe Cutrera e Giorgia Fornaro senior Ludovica Cutuli e Michael Nevola miglior stilista uomo Sartoria del Sarto Gravi Dimiter miglior stilista donna Megap Selli Speranza stylist Damiano Torrisi Amo molto la zona iblea in particolare Ragusa e Ragusa Ibla per cui ho voluto proprio renderlo visto che il premio Musa nasce in Sicilia ho voluto renderlo per la prima edizione siciliano al 100% e fare la finale proprio qui in territorio ibleo con tantissimo piacere con tantissima soddisfazione abbiamo il patrocinio anche del comune di Ragusa il patrocinio del comune di Vittoria di Comiso e anche del mio paese nativo che è Lico di Obea Ha incantato la platea ieri sera Iskra Menarini con il suo concerto a Tre Castagni che ha ripercorso i più grandi successi del passato e del presente un concerto benefico organizzato dall'Istituto Medico Lucia Mangano in collaborazione con i Lions per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto In russo il suo nome significa scintilla e in senso figurato talento bravura dono la stessa scintilla che ieri sera Iskra Menarini ha acceso nel teatro comunale i Tre Castagni dove sui miti dell'Istituto Sociale Lucia Mangone e dei Lions si è esibito in un concerto benefico a favore delle popolazioni nel centro Italia colpite recentemente al terremoto e con la sua bravura e il suo talento ha donato attimi di musica davvero unici per mantenere un cuore forte comunque mi nutro di musica che mi aiuta diciamo così a superare perché comunque se sei molto sensibile si sa che poi diventi anche fragile e quindi la musica ti aiuta ti fa divertire c'è la conquista del pubblico questa sera vogliamo anche dire una cosa non doveva succedere una disgrazia del genere bisognava prevenire un dramma così catastrofico la medicina ci insegna una cosa prevenire anziché curare si sapeva e si sa che il centro Italia è una zona altamente sismica e io ricordo come lo ricordate precedentemente nelle altre interviste che anche la Sicilia e la Campania sono zone altamente sismiche allora perché fare morire 298 persone perché fare scomparire dei borghi medievali che non potranno essere più gli stessi e allora vogliamo da un lato essere solidali dall'altro lato ecco gridare con forza con coraggio con determinazione di cercare di far sì che questa classe politica possa fare qualcosa prima che succedano drammi e tragedie di questo genere il nostro contributo che abbiamo voluto appunto trasmettere appoggiando concretamente questa iniziativa dell'Avvocato Garotolebisi è proprio per dare un contributo di solidarietà per quanto riguarda le popolazioni che sono state colpite tremendamente da questo terremoto noi siamo sempre disponibili per fare eventi di solidarietà in questo caso noi coniughiamo la cultura con la solidarietà perché Isga Menarini è una grande artista di livello nazionale che ha lavorato 24 anni con Lucio Dalla ha una voce bellissima e noi l'abbiamo accolta proprio perché si dà un segnale anche in direzione delle persone più debole e non ci sono ulteriori aggiornamenti concludiamo qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci seguito vi auguro una buona serata arrivederci a domani grazie a tutti